Lezione 1. Esplorazione dei budget. Ehi Anna, mentre parlavamo della lista della spesa, ultimamente ho pensato anche al mio budget. Oh sì? Cosa stavate considerando in termini di budget? Beh, voglio assicurarmi di allocare i miei soldi con saggezza, soprattutto per beni essenziali come il cibo. È così importante. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra bisogni e desideri, giusto? Esattamente. Sono d'accordo che hanno tutti qualcosa di unico da offrire, ma penso anche ai vincoli di budget. Totalmente. Si tratta di dare priorità a ciò che è più importante pur lasciando spazio a una certa flessibilità. Assolutamente. Sto cercando di tenerne conto mentre pianifico le mie spese. Hai qualche consiglio per il budget? Beh, una cosa che mi ha davvero aiutato è tenere traccia delle mie spese da vicino. In questo modo puoi identificare le aree da salvare. Questo ha molto senso. Tenere sotto stretto controllo dove vanno i miei soldi è probabilmente il miglior punto di partenza. Lezione 2. Diversità nei viaggi Ehi Anna, stavo leggendo alcune tendenze di viaggio l'altro giorno. Apparentemente la Nuova Zelanda sta diventando una destinazione molto popolare. Oh, davvero? Questo sì che è interessante. Mi chiedo cosa stia guidando il crescente interesse per la Nuova Zelanda. Da quello che ho letto, attira molti viaggiatori, principalmente dai paesi asiatici e da altre isole del Pacifico. Mmm, ha senso. La Nuova Zelanda ha paesaggi naturali così diversi, non sorprende che possa attrarre un pubblico globale. Sicuramente. E penso che l'attenzione del paese alla sostenibilità e all'ecoturismo sia anche una grande attrazione per molte persone. Assolutamente. L'opportunità di immergersi in una cultura e in un ambiente unici è così allettante. Sono d'accordo. Esplorare luoghi diversi e sperimentare quella diversità è ciò che rende il viaggio così arricchente. Totalmente. Ti apre davvero gli occhi su nuove prospettive e modi di vivere. Mi piacerebbe visitare la Nuova Zelanda un giorno. Lo stesso qui. È sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio adesso. Più ne imparo, più ne divento incuriosito. Lezione 3. Navigare tra i negozi. Ehi Anna, devo prendere alcune cose al negozio. Vuoi venire con me? Certo. Sarai felice di dare una mano. Cosa stai cercando di ottenere? Beh, ho bisogno di calzini nuovi e alcuni articoli per la casa. Hai qualche consiglio su dove andare? Mh, fammi pensare. Il grande magazzino in fondo alla strada di solito ha una buona selezione di calzini. E il negozio di articoli per la casa della porta accanto è ottimo per trovare gli oggetti essenziali di uso quotidiano. Meraviglioso. Grazie per il suggerimento. Ci andiamo insieme? Assolutamente. Sarai lieto di aiutarti a trovare ciò di cui hai bisogno. Ottimo. Sono sicuro che avere un paio di occhi in più sarà utile. Sicuramente. Inoltre, è sempre più divertente fare acquisti con un amico. Sono d'accordo. Va bene, andiamo a vedere cosa riusciamo a trovare. Lezione 4. Sognando la primavera. No, non l'ho fatto. Ma ho sempre voluto andarci. Ho sentito che è assolutamente sbalorditivo. Lo è davvero. I delicati fiori rosa sullo sfondo blu del cielo lasciano senza fiato. Posso solo immaginarlo. Ho visto delle foto. Ma scommetto che di persona è ancora più bella. Lo è. L'atmosfera è così serena e pacifica. Tutti sembrano rallentare e apprezzare la bellezza naturale. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe provare quel senso di tranquillità. Beh, sai, stavo pensando di programmare un viaggio lì in primavera. Saresti interessato a unirti a me? Davvero? Oh, John, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe esplorare il Giappone con te durante la stagione dei fiori di ciliegio. Meraviglioso. Possiamo iniziare a pianificare i dettagli. Sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 5. Decorazione per le feste. Ehi Anna, hai già iniziato a decorare per le feste? No, non ancora. Ma sono entusiasta di iniziare. Hai qualche idea divertente in mente? Beh, stavo pensando che potremmo prendere un grande albero di Natale e decorarlo con ogni sorta di luci e ornamenti. Oh, sembra adorabile. E dovremmo mettere una stella in cima, non credi? Sicuramente. E forse possiamo appendere anche del vischio in casa. Oh, vischio! Sarebbe così festoso. Possiamo baciarci sotto, ovviamente. Certo. E dovremmo mettere dei regali sotto l'albero. Sì, è un must. Con grandi fiocchi colorati sulla parte superiore. Assolutamente. Assomiglierà così magico quando sarà tutto finito. Lezione 6. Cooking up flavors. Ehi Anna, qual è la tua erba preferita con cui cucinare? Mmm, questa è dura. Devo dire che l'origano è il mio preferito. Aggiunge una profondità di sapore così grande. Ah, sì, l'origano è fantastico. Anch'io preferisco l'aglio e la cipolla. Oh, aglio e cipolla sono dei classici. Fanno davvero risaltare qualsiasi piatto. Assolutamente. Li uso in quasi tutto ciò che cucino. Anch'io. Sono una base aromatica così versatile. Sicuramente. Avete mai provato a mescolare un po' di origano con aglio e cipolla? No, ma sembra delizioso. Dovrò provarci la prossima volta. Riunisce davvero tutto nel modo più sorprendente. Lezione 7. Lobby preferito di Anna. Ehi Anna, hai provato quel nuovo hobby di cui mi parlavi? Oh, intendi i miei corsi di ceramica? Li sto amando. L'istruttore è così paziente ed è così rilassante lavorare con l'argilla. È fantastico. Che genere di cose stai facendo? Beh, ho iniziato con alcuni vasi e ciotole di base, ma ora sto cercando di creare disegni più intricati. La settimana scorsa ho realizzato questo fantastico piatto da portata con un motivo geometrico. Wow, sembra impressionante. Mi piacerebbe vedere le tue creazioni qualche volta. Assolutamente. Sono davvero orgoglioso di come stanno andando. È stato un nuovo hobby così divertente da imparare. Posso immaginarlo. Deve essere davvero soddisfacente creare qualcosa con le proprie mani. Sicuramente. È anche una bella pausa dal mio lavoro quotidiano. Lo studio di ceramica ha un'atmosfera così rilassante. Meraviglioso. Sono contenta che tu abbia trovato qualcosa che ti piace così tanto. Lezione 8. Articoli per la casa. Ehi Anna, sei stata al negozio ultimamente? Devo prendere alcune cose. No, non l'ho fatto. Cosa stai cercando? Beh, sto esaurendo alcuni prodotti essenziali per la casa come detersivo per i piatti, carta igienica e detersivo per il bucato. Oh, sono oggetti importanti da avere in casa. Fammi pensare. Cos'altro ti serve in genere per rifornirti? Hm, ho anche bisogno di nuove lampadine, una spugna per la cucina e forse qualche altro prodotto per la pulizia. Sembra una buona lista. Non dimenticate anche cose come batterie, pellicola e sacchetti di plastica. Sono utili per tutti i tipi di usi domestici. Buon punto. Mi assicurerò di controllare anche quelli. Mi consiglieresti di prendere qualcos'altro? Beh, se ci vai, puoi anche prendere degli snack o delle bevande. È sempre bello averli a portata di mano per quando arrivano gli ospiti. È un'ottima idea. Mi assicurerò di fare scorta di alcune delle nostre prelibatezze preferite. Lezione 9. Sport e tempo libero Ehi, hai visto la partita importante ieri sera? No, me lo sono perso. Che sport era? Era la partita di campionato per la nostra squadra di calcio locale. Hanno giocato così bene e hanno vinto il titolo. È incredibile. Il calcio è davvero cresciuto in popolarità da queste parti, vero? Sicuramente. È diventato uno degli sport più seguiti e praticati, anche più di alcuni di quelli tradizionali. Capisco perché. È un gioco così emozionante e frenetico. Giochi da solo? In realtà sì. Faccio parte di una squadra di campionato dilettantistico che si riunisce un paio di volte a settimana per allenarsi e gareggiare. È fantastico. Scommetto che è molto divertente far parte di una squadra del genere. Lo è davvero. È un ottimo modo per rimanere attivi e incontrare nuove persone che condividono la stessa passione per lo sport. Lezione 10. Vita in città. Beh, hai i suoi pro e contro. La comodità di essere vicini a tutto è piacevole, ma il traffico può essere una vera seccatura. Questo è vero però ho sentito che il trasporto pubblico è abbastanza buono in città. Lo è, ma può comunque essere affollato nelle ore di punta. Anche il rumore e la folla possono essere un po' opprimenti. Capisco. È il costo della vita? Ho sentito che gli affitti e i prezzi tendono ad essere più alti in città. Oh, sicuramente. Gli alloggi e i generi alimentari sono un po' più costosi rispetto alle periferie o alle aree rurali. Hmm, è qualcosa che dovrò tenere in considerazione. Pensi che i compromessi valgano la pena, però? Dipende davvero dal tuo stile di vita e dalle tue priorità. Se non ti dispiace il trambusto, la città può essere un posto eccitante in cui vivere. Questo è un buon punto. Dovrò valutare attentamente i pro e i contro prima di decidere. Sembra un piano. Fammi sapere se hai altre domande mentre stai considerando il trasferimento. Lezione 11. Pianificazione del viaggio. Ehi Anna, sto iniziando a pianificare un viaggio in Europa. Hai qualche consiglio? Europa. Che emozione. Quali paesi sei interessato a visitare? Beh, mi piacerebbe vedere alcune delle principali città come Parigi, Londra e Roma. Sono tutte scelte fantastiche. Hai pensato a come muoverti una volta arrivato? Non proprio. Non sono sicuro di dover prenotare voli tra ogni città o cercare treni o autobus. Hmm, questa è una buona domanda. I treni sono spesso un modo comodo e panoramico per viaggiare in Europa. Questo è un buon punto. Dovrò esaminare il sistema ferroviario e vedere se ha più senso. E non dimenticare di dedicare del tempo per visitare la città e vivere la cultura locale in ogni luogo. Assolutamente. Voglio assicurarmi di avere abbastanza tempo per immergermi davvero nelle destinazioni. Lezione 12. Quaderni preferiti Ehi Anna, hai un tipo di taccuino preferito? Oh, è un'ottima domanda, John. Preferisco davvero i quaderni rilegati a spirale. Le bobine facilitano il capovolgimento delle pagine e la scrittura su entrambi i lati. Sono allo stesso modo. Trovo la rilegatura a spirale molto più comoda di quella sui tradizionali taccuini con copertina rigida. Sicuramente. E mi piace come le foglie a spirale del taccuino siano distese mentre scrivo. Sembra solo più naturale. Assolutamente. Inoltre, la spirale offre la flessibilità di strappare facilmente le pagine se necessario. Questo è un grande vantaggio per me. Esattamente. I quaderni rilegati a spirale sono così pratici. Hai una marca o uno stile preferito che tendi a preferire? Beh, sono un grande fan dei taccuini 5 Star. Hanno una qualità delle pagine così piacevole e le copertine sono davvero resistenti. Oh sì! 5 Star è un'ottima scelta. Mi piace molto anche il marchio Mid. Hanno alcuni disegni e colori divertenti tra cui scegliere. Anche l'idromele è solido. Le copertine con motivi possono aggiungere un tocco personale al tuo taccuino. Lezione 13. Tesori di famiglia. Ciao Anna. Hai mai trovato cimeli di famiglia o souvenir speciali dei tuoi viaggi? Ah sì! Ho alcuni oggetti preziosi. Ad esempio, ho questa bellissima collana che apparteneva a mia nonna. È stato tramandato di generazione in generazione. Meraviglioso! Ho anche alcuni oggetti sentimentali, come questo orologio da tasca che mio padre mi ha regalato prima di morire. È uno dei miei beni più preziosi. È così premuroso. Posso immaginare quanto significhi quell'orologio per te. Hai altri oggetti speciali che hai collezionato nel corso degli anni? Sicuramente. Ho una collezione di cartoline provenienti da tutti i luoghi in cui ho viaggiato. Ognuna mi ricorda ricordi ed esperienze meravigliose. È una bella idea. Anch'io ho qualche souvenir del genere. Ad esempio, ho questa piccola statuetta in legno che ho comprato durante un viaggio in Messico. È diventata una graziosa decorazione per la mia casa. Sembra bellissimo. È incredibile come questi semplici oggetti possano avere così tanto significato e significato per noi. Assolutamente. Questi oggetti sentimentali ci aiutano davvero a connetterci al nostro passato e alle persone e ai luoghi che hanno plasmato la nostra vita. Non potrei essere più d'accordo. È meraviglioso essere in grado di circondarci di questi promemoria significativi. Lezione 14. Fitness Journey Ehi Anna, ho notato che sembri davvero in forma ultimamente. Stai lavorando su una nuova routine di esercizi? Perché? Sì, l'ho fatto. Ho iniziato una combinazione di esercizi cardio e di allenamento della forza e sta facendo davvero la differenza. È bello sentirlo. Che tipo di cardio stai facendo? Faccio jogging alcune volte a settimana e provo anche alcuni allenamenti HIIT. Mi fanno davvero aumentare la frequenza cardiaca. Bello, HIIT è un modo così efficiente per allenarsi. E che dire dell'allenamento della forza? Ho incorporato un po' di sollevamento pesi, concentrandomi principalmente su esercizi composti come squat e stacchi. È stato impegnativo ma molto gratificante. I movimenti composti sono così importanti per aumentare la forza complessiva. Sono colpita che tu ti sia attenuto a questo. Grazie. È stato sicuramente un viaggio, ma mi sento più forte e pieno di energia. Hai degli obiettivi di fitness su cui stai lavorando? Assolutamente. Ho cercato di migliorare la mia flessibilità e mobilità, quindi faccio yoga alcune volte a settimana. Lezione 15. Esplorazione del mercato locale. Ehi Anna, ho sentito che sei andata al mercato locale durante il fine settimana. Com'è andata? È stato fantastico. Ho trovato tanti souvenir unici e interessanti. Dovresti davvero dare un'occhiata. È un'ottima idea. Che genere di cosa hai trovato? Beh, mi sono imbattuta in questo bellissimo cestino tessuto a mano che non potevo non avere. La maestria è stata incredibile. Wow, sembra adorabile. Adoro sostenere gli artigiani locali e trovare oggetti unici nel loro genere. Assolutamente. E sul mercato c'era molto di più che prodotti artigianali. C'erano tutti i tipi di prodotti freschi, prodotti da forno e persino del delizioso cibo da strada. Oh, cibo di strada in un mercato locale? È proprio quello che fa per me. Cosa hai provato alla fine? Ho mangiato dei tamales fantastici. Erano così saporiti e perfettamente cotti al vapore. Ora mi fai venire voglia di tamales. Presto dovrò sicuramente fare un giro al mercato. Lezione 16. Nuova eccitazione domestica. Ehi Anna, ho sentito che ti trasferisci in una nuova casa. È eccitante. Sì, lo sono. In realtà sto guardando l'appartamento in questo momento. Vorresti venire a vederlo? Mi piacerebbe, ma non voglio imporvi se siete nel bel mezzo di qualcosa. Niente affatto. Mi servirebbe una seconda opinione. Vieni qui. Sto solo finendo alcuni documenti. Va bene, suona bene. Vado subito. Fammi sapere l'indirizzo. Meraviglioso. Te lo mando per SMS. Non vedo l'ora che tu veda il posto. Ottimo. Sarò lì presto. È un grande passo. Sono felice per te. Grazie. Sono così emozionata. È stato un processo lungo, ma penso di aver trovato il posto perfetto. Sono sicuro che l'hai fatto. Hai un ottimo gusto, quindi non ho dubbi che sarà fantastico. Lezione 17. La battaglia di New Orleans Eianna, sapevi che la battaglia di New Orleans fu combattuta dopo la fine ufficiale della guerra del 1812? No, non lo sapevo. Cosa è successo? Ebbene, il trattato di Gun fu firmato nel dicembre 1814, ma allora le notizie viaggiarono lentamente. Gli inglesi lanciarono comunque un attacco a New Orleans all'inizio del 1815, pensando che la guerra fosse ancora in corso. Wow, è interessante. Allora chi ha vinto quella battaglia? Gli americani, guidati dal generale Andrew Jackson, sconfissero definitivamente gli inglesi. Anche se la guerra era finita, gli americani riuscirono comunque a ottenere una grande vittoria. Capisco deve essere stata una situazione caotica con la fine della guerra, ma i combattimenti continuano. Esattamente. Entrambe le parti erano ormai stanche del conflitto, ma si sentivano comunque obbligate a portare avanti questa battaglia finale. Fu una fine drammatica della guerra del 1812. Affascinante. Non conoscevo questo pezzo di storia. È incredibile come la comunicazione fosse molto più lenta allora. Sì, la mancanza di comunicazione istantanea ha creato alcune situazioni strane. Ma la battaglia di New Orleans è considerata una delle vittorie americane più sbilanciate della storia. Lezione 18. I grandi allevamenti di bestiame. Eianna, sapevi che nel 1890 le grandi trasferte di bestiame dal Texas al Kansas erano in gran parte giunte al termine? No, non me ne ero accorto. Cosa è successo che ha causato la fine di quelle famose raccolte di bestiame? Ebbene, man mano che la rete ferroviaria si espandeva verso ovest, divenne molto più facile ed efficiente trasportare il bestiame in treno piuttosto che su lunghi e faticosi viaggi di bestiame. Capisco. Ha senso. Le ferrovie devono aver davvero trasformato l'industria del bestiame. Esattamente. I giorni in cui i cowboy radunavano migliaia di bovini longhorn nelle grandi pianure volgevano al termine mentre le linee ferroviarie si spingevano più a ovest. Wow! Deve essere stata la fine di un'era. Quelle raccolte di bestiame sembravano una parte essenziale del west americano. Lo erano. Ma le ferrovie hanno portato progressi e modernizzazione, anche se ciò ha significato la scomparsa di quelle iconiche strade adibite al bestiame. È incredibile come la tecnologia possa sconvolgere gli stili di vita tradizionali in questo modo. Immagino che molti cowboy fossero disoccupati. Hai ragione molti cowboy hanno dovuto trovare un nuovo lavoro a causa della scomparsa degli allevamenti di bestiame. Ma le ferrovie aprirono anche nuove opportunità economiche. Lezione 19. Olimpiadi e politica. Ehi Anna, sapevi che il Comitato Olimpico Internazionale cerca di mantenere le Olimpiadi il più a politiche possibile? Oh, davvero? Non me ne ero accorto. Perché è così? Bene, il ciò ritiene che i giochi olimpici dovrebbero essere una celebrazione dello sport e dei successi atletici, non un palcoscenico per dichiarazioni o programmi politici. Questo ha senso. Le Olimpiadi dovrebbero riunire il mondo attraverso una competizione amichevole. Esattamente. L'obiettivo del ciò è mantenere lo spirito olimpico di sportività e cameratismo, senza lasciare che le questioni politiche offuschino gli eventi atletici. È una posizione interessante. Ma immagino che non sia sempre facile tenere la politica fuori dalle Olimpiadi, vero? Hai ragione, è una sfida costante. Ci sono stati molti casi in cui paesi e atleti hanno usato le Olimpiadi per fare dichiarazioni politiche. Capisco quanto sarebbe frustrante per il CIO. Devono percorrere una linea sottile tra consentire la libertà di espressione e mantenere l'attenzione sugli sport. Sicuramente. Ma il CIO rimane fermamente convinto che le Olimpiadi dovrebbero essere un evento politicamente neutrale, incentrato sulla celebrazione del potenziale atletico dell'umanità. Ehi Anna, hai mai fatto paracadutismo prima? No, non l'ho fatto. Ma ho sempre voluto provarlo. Ma com'è? È un'esperienza incredibile. L'emozione di cadere liberamente e vedere il mondo da così in alto non ha uguali. Wow! Sembra incredibile. Immagino che la scarica di adrenalina debba essere incredibile. Lo è davvero. I primi secondi di caduta libera sono pura euforia. Ti senti come se stessi volando. Scommetto. Poi il paracadute si dispiega e torni dolcemente a terra. Giusto? Esattamente. Il volo con il paracadute è così tranquillo e sereno dopo l'iniziale scarica di adrenalina. Sembra la combinazione perfetta di eccitazione e tranquillità. Mi piacerebbe provarlo un giorno. Dovresti assolutamente farlo. Il paracadutismo è davvero un'esperienza da non perdere. I panorami sono mozzafiato. Lezione 21. Il primo volo dell'impero. Ehi Anna, sapevi che il primo volo aereo a motore nell'impero britannico ebbe luogo nel 1909? No, non lo sapevo. Dove è avvenuto questo volo storico? È avvenuto a Bedek, in Nuova Scozia, presso la stazione sperimentale Alexander Graham Bell. Wow, è affascinante. Non sapevo che il Canada avesse avuto un ruolo così precoce nella storia dell'aviazione. Esattamente. Il volo è durato solo circa mezzo miglio, ma è stato un traguardo significativo per l'aviazione. Mezzo miglio? Non sembra molto lontano, ma immagino sia stato l'inizio di qualcosa di rivoluzionario. Assolutamente. Era la prima volta che un aereo progettato e costruito nell'impero britannico raggiungeva un volo a motore e controllato. Deve essere stato uno spettacolo incredibile a cui assistere allora. Che tipo di aereo era? Era un progetto di Bell e del suo team, chiamato Silver Dart. Un biplano piccolo e leggero che ha effettuato quello storico volo di mezzo miglio. Lezione 22. Wi-Fi e colazione gratuiti. Ehi Anna, sapevi che la maggior parte degli hotel di questi tempi offre Wi-Fi e colazione gratuiti? Oh, davvero? È così comodo. Adoro quando gli hotel includono questi servizi. Anch'io. Rende molto più facile viaggiare. Non devi preoccuparti di trovare un posto dove mangiare o di pagare una connessione internet costosa. Assolutamente. E la colazione gratuita è un ottimo modo per iniziare la giornata. Puoi fare rifornimento prima di esplorare la città. Esattamente. E con il Wi-Fi gratuito, puoi rimanere connesso e condividere tutte le tue avventure sui social media. Sicuramente. Sono le piccole cose che fanno una grande differenza quando sei lontano da casa. Sicuramente. Gli hotel che offrono questi extra si distinguono davvero in questi giorni. Assolutamente. È diventata un'aspettativa per molti viaggiatori. Di sicuro. È un bel vantaggio che rende l'esperienza complessiva molto migliore. Lezione 23. Shopping a tarda notte. Eianna, sapevi che alcuni negozi in città restano aperti fino a tardi? Oh, davvero? Buono a sapersi. A che ora chiudono la maggior parte? La maggior parte chiude intorno alle 22, ma ce ne sono alcuni che rimangono aperti anche più tardi. Wow! È comodo. È bello avere alcune opzioni per lo shopping a tarda notte. Sicuramente. È ottimo per le persone che lavorano per lunghe ore o vogliono navigare dopo cena. Assolutamente. Ed è perfetto per ritirare qualsiasi oggetto dell'ultimo minuto prima di tornare in hotel. Esattamente. Non devi affrettarti ad arrivare ai negozi prima che chiudano. Questo è un buon punto. Ti dà una maggiore flessibilità con i tuoi orari. Sicuramente. Ed è bello avere la possibilità di fare un po' di shopping in vetrina la sera. Eianna, ho sentito che la tua recente mostra d'arte è stata un grande successo. Oh, sì. È andata anche meglio di quanto mi aspettassi. Abbiamo ricevuto così tanti feedback positivi. È una notizia fantastica. Hai intenzione di fare un'altra mostra in futuro? Lo stiamo sicuramente considerando. La risposta è stata così incoraggiante che stiamo già iniziando a pianificare la prossima. È bello sentirlo. Deve essere davvero gratificante vedere il tuo duro lavoro ripagato in questo modo. Assolutamente sì. Sono molto grato per il sostegno che abbiamo ricevuto dalla comunità. Posso immaginarlo. È sempre una conferma quando le persone apprezzano l'arte che crei. Sicuramente. È ciò che mi mantiene motivato a continuare a superare i miei limiti creativi. Scommetto. Beh, sono davvero felice per te. Deve essere un momento così emozionante. Lezione 25. Strumenti musicali. Ehi Anna, ho sentito che ci sono degli strumenti musicali interessanti nella nuova mostra d'arte. Oh, davvero? Questo non lo sapevo. Che tipo di strumenti avevano in mostra? Beh, ho sentito che avevano cose come un pianoforte, un organo e persino un tamburo. Wow, un cestello da bollitore? È uno strumento così insolito. Mi piacerebbe vederlo. Lo so, giusto? E il pianoforte e l'organo sono classici, ma comunque affascinanti da vedere da vicino. Sicuramente. Deve essere davvero fantastico poter interagire con quegli strumenti. Assolutamente. Scommetto che hanno dei piccoli cartelli che spiegano come funzionano. Sarebbe così informativo. Adoro conoscere la meccanica degli strumenti musicali. Anch'io. Ti fa davvero apprezzare di nuovo la maestria con cui lì si interpreta. Lezione 26. Limiti alle dimensioni dei bagagli. Ehi Anna, hai visto le linee guida aggiornate sulle dimensioni dei bagagli per le compagnie aeree? No, non l'ho fatto. Quali sono le nuove regole? Voglio assicurarmi di fare le valigie adeguate per il mio prossimo viaggio. Bene, le dimensioni non possono essere maggiori di 22x14x9 pollici. Oh, buono a sapersi. Questo è un limite di dimensioni piuttosto specifico. Dovrò ricontrollare i miei bagagli. Sì, stanno cercando di standardizzarlo tra le compagnie aeree. Lo rende più facile per tutti. Sicuramente. È frustrante quando le regole variano da una compagnia aerea all'altra. Totalmente. In questo modo, sai cosa aspettarti indipendentemente dalla compagnia con cui voli. Esattamente. Elimina le congetture dall'imballaggio, il che è molto utile. Assolutamente. E assicura che le borse di tutti entrino nelle cappelliere. Lezione 27. Mantenere il controllo. Ehi Anna, riesco a malapena a sentirmi pensare con questo livello di rumore. Dobbiamo tenerlo basso, non credi? Hai ragione, John. Non vogliamo disturbare gli altri passeggeri. Parliamo più piano. Assolutamente. Dovremmo essere rispettosi di tutti quelli che ci circondano. Concordato. Non voglio fare scenate o avere sguardi sporchi. Nemmeno io. Possiamo ancora avere una conversazione coinvolgente, solo a un volume più ragionevole. Esattamente. Non c'è bisogno di gridare per far capire il nostro punto di vista. Sicuramente. Sono contenta che siamo d'accordo su questo argomento. Anche io. Si tratta solo di trovare l'equilibrio perfetto. Hai capito bene. Continuiamo la nostra chiacchierata, mantenendola tranquilla e tranquilla? Lezione 28. Il dilemma aziendale. Ehi, Anna. Sapevi che le aziende spesso non sono motivate a esaminare attentamente l'impatto delle loro azioni? Davvero? Davvero interessante. Perché pensi che sia così? Bene. Le società si concentrano principalmente sulla massimizzazione dei profitti e del valore per gli azionisti. Non sempre possono considerare le più ampie conseguenze sociali o ambientali delle loro decisioni. Capisco quindi la spinta al profitto. Può a volte mettere in secondo piano altre considerazioni importanti? Esattamente. Le aziende sono spesso più interessate ai profitti che alla responsabilità sociale o ambientale. Questo è un po' preoccupante. Pensi che ci sia un modo per incoraggiare le aziende a essere più consapevoli del loro impatto? Ci sono alcune iniziative, come i programmi di responsabilità sociale delle imprese, che mirano a farlo. Ma alla fine, richiede un cambiamento culturale nel modo in cui vediamo il ruolo delle imprese nella società. Hai fatto una buona osservazione. È un problema complesso senza soluzioni facili. Sicuramente. Ma credo che se riusciamo a trovare modi per allineare meglio gli incentivi aziendali con il bene pubblico più ampio, possiamo fare progressi. Buongiorno Anna. Hai ricevuto le notizie sui cambiamenti delle dinamiche di potere nella regione del Golfo? Sì. È stato un argomento caldo ultimamente. L'equilibrio di potere sembra pesare pesantemente sul panorama geopolitico locale. Assolutamente. Con l'aumento delle tensioni, è fondamentale che tutte le parti coinvolte trovino una soluzione diplomatica a queste questioni di grande importanza. Sono d'accordo. Il ricorso all'azione militare non farebbe che destabilizzare ulteriormente la regione. È necessario un approccio delicato per affrontare questi problemi complessi. Sicuramente. I leader devono considerare attentamente le conseguenze delle loro decisioni. Una mossa sbagliata potrebbe farsi che la situazione vada fuori controllo. Questo è un buon punto. Devono evitare un'escalation delle tensioni e trovare un modo per allentare la situazione attraverso una negoziazione ponderata. Esattamente. È una partita ad alto rischio, ma è in gioco il benessere dell'intera regione. Trovare il giusto equilibrio sarà fondamentale. Non potrei essere più d'accordo. Questo è un momento critico che determinerà il futuro del golfo per gli anni a venire. Assolutamente. Possiamo solo sperare che gli attori chiave abbiano la lungimiranza e la saggezza per fare le scelte giuste per il bene comune. Lezione 30. La diversità dell'Australia. Ehi Anna, sapevi che l'Australia non è composta solo dalla terraferma? Davvero? Ho sempre pensato che fosse solo il grande continente insulare. Cos'altro c'è? Bene. L'Australia è composta dalla terraferma, più una serie di isole e territori circostanti provenienti da altre parti del mondo. Affascinante. Non sapevo che il paese avesse una tale diversità geografica rispetto alla massa continentale principale. Esattamente. È un mix piuttosto eclettico, con isole come la Tasmania, l'isola di Natale e le isole Cocos, Kelling. Wow. Non ne avevo idea. Ciò si aggiunge davvero all'unicità dell'Australia nel suo insieme. Assolutamente. È una testimonianza della ricca storia del paese e delle influenze culturali provenienti da tutto il mondo. Mi fa venire voglia di esplorare di più l'Australia, oltre la semplice terraferma. C'è chiaramente molto altro da scoprire. Sicuramente. È un paese diverso e affascinante con così tante gemme nascoste che aspettano di essere esplorate. Buongiorno. Hai dormito bene la scorsa notte? Buongiorno, John. Sì, ho dormito benissimo. Tu che ne dici? Ho dormito come un tronco. È stata una delle migliori notti di sonno che ho avuto da un po'. È meraviglioso sentirlo. Una buona notte di sonno fa una grande differenza nel modo in cui ti senti durante il giorno. Assolutamente. Mi sono svegliata, riposata ed energizzata, pronta per affrontare la giornata. Lo stesso qui. Non c'è niente di meglio di quella sensazione di riposo dopo una notte riposante. Sono d'accordo. È incredibile quanto un buon sonno possa migliorare l'umore e la produttività. Sicuramente. Trovo che quando sono ben riposato sono molto più concentrato e in grado di affrontare i compiti in modo più efficiente. Esattamente. Una buona routine del sonno è così importante per il benessere fisico e mentale. Lezione 32. Uno sguardo senza tempo. Ehi Anna, stavo pensando di ridipingere il mio salotto. Cosa pensi che gli conferirebbe un aspetto pulito e senza tempo? Mmm, questa è un'ottima domanda. Suggerirei di optare per una palette minimalista e nautra con materiali naturali per creare un'estetica senza tempo. Oh, sembra intrigante. Puoi darmi qualche dettaglio in più su quello che hai in mente? Assolutamente. Sto pensando a qualcosa come pareti bianche nitide, abbinate a caldi accenti di legno e magari a mobili eleganti e moderni. Potrebbe funzionare davvero bene. Darebbe allo spazio un'atmosfera piacevole, ariosa e sofisticata. Esattamente. E i materiali naturali aggiungerebbero quell'elemento di atemporalità senza farlo sembrare datato. Questa idea mi piace molto. Che tipo di accessori consiglieresti per completare quel look? Suggerirei di mantenerlo semplice e con qualche sottile elemento materico, come un bel copriletto in lana o lino, e magari qualche pianta in vaso per un tocco naturale. Sembra perfetto. Darebbe alla stanza un'atmosfera pulita e ordinata, ma la renderebbe comunque calda e invitante. Lezione 33. Fiori che sbocciano e divertimento estivo. Ciao Anna, hai notato come i fiori sbocciano magnificamente in questa stagione? Sì, adoro vedere tutti i colori vivaci. L'estate è il periodo perfetto per godersi la natura. Sono d'accordo. E il clima caldo significa che possiamo anche andare a nuotare. Hai qualche programma estivo divertente? Non vedo l'ora di fare una gita in spiaggia. La brezza dell'oceano e l'acqua fresca sembrano così rinfrescanti. Sembra meraviglioso. Penso che potrei programmare un'escursione in montagna. I panorami sono mozzafiato in questo periodo dell'anno. Oh! Un'escursione sembra adorabile. Dovrai condividere alcune foto quando te ne vai. Sicuramente. Sono sicuro che i fiori selvatici usciranno in pieno vigore. Non vedo l'ora di vederli. L'estate è la mia stagione preferita. C'è così tanto da divertirsi. Assolutamente. Le giornate più lunghe e il cielo soleggiato mi risollevano sempre il morale. Ehi Anna, ho saputo che sei andata di recente in Vietnam. Com'era il cibo? Il cibo in Vietnam era assolutamente delizioso. Mi viene fame solo a pensarci. Oh, davvero? Quali erano alcuni dei tuoi piatti preferiti? Il foo era fuori dal mondo. Il brodo era così saporito. E i panini ban mi? Gnam! Ben a mi, eh? Ho sentito che sono incredibili. Cosa li ha resi così buoni? Il perfetto equilibrio tra ingredienti salati, piccanti e croccanti. Potrei mangiarne uno ogni giorno. Ora ho voglia di cibo vietnamita. Forse dovrò programmare presto un viaggio lì. Dovresti assolutamente. La cultura e la cucina sono allo stesso tempo così vivaci ed eccitanti. Non vedo l'ora. Grazie per la deliziosa raccomandazione. Lezione 35. Festa in maschera divertente. Ehi Anna, hai saputo della festa in costume di questo fine settimana? Sì. Sono così emozionata. Sai da cosa ti vestirai? Sto pensando di diventare un mago. Una veste lunga e un cappello a punta sarebbero perfetti. Oh, sembra un bel costume. Ho intenzione di diventare una strega. Una strega, eh? Posso già immaginarti con un vestito nero e un cappello a punta. Esattamente. Voglio davvero dedicarmi al look. E voi? Avete in programma qualche accessorio? Porterò sicuramente una bacchetta magica. Forse anche farti crescere una barba finta. Ah! Il look completo da mago. Lo adoro sarà molto divertente. Sicuramente. Non vedo l'ora di vedere tutti i costumi creativi. Sì. Continua bene. Ah!